Avola scompare il senatore Sebastiano Burgaretta, figura di spicco della politica italiana e siciliana. E' scomparso l'ex senatore Sebastiano Burgaretta all'età di 90 anni. Era originario di Avola, stato uno dei protagonisti più importanti della democrazia cristiana in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle istituzioni, prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica. Dal 1971 al 1976 è stato assessore ai lavori pubblici del Comune di Avola, mentre dal 1976 al 1992 è stato sindaco. Dal 1986 al 2006 è stato deputato regionale, prima con l'ADC, poi con il Centro Cristiano Democratico e, infine, con l'UDC. Il 6 ottobre 2009, in seguito alla dimissione di Salvatore Cintola, subentrò e venne eletto senatore della sedicesima legislatura. Aderì poi alla componente del Movimento per l'Autonomia del gruppo misto. Il 13 dicembre 2010, in dissenso con l'MPA, votò la fiducia al governo Berlusconi, pertanto venne esposto dal partito. Il 28 dicembre 2010 aderì al Popolo della Libertà.